Nello splendido scenario dell'arsenale militare, domenica con il sole, alla Fiera del Mare, evento organizzato dal Comune di Taranto con il sostegno di Regione Puglia, Fondazione Taranto 25 e l'apporto logistico della Marina Militare. Possiamo ritrovare più di 90 stand, a cura di enti, associazioni e società, ma anche incontrare testimonial dello sport. Alla Fiera del Mare di Taranto anche la campionessa italiana di canottaggio sedile fisso e Sabina De Florio, ospite d'onore nello stand della Lega Navale Italiana di Taranto. Grazie, buonasera, sono Sabina De Florio, ho percepito medaglia d'oro al campionato europeo di canottaggio sedile fisso con il mio collega Gianluca Di Giacomo, anche lui medaglia d'oro, bronzo. I sacrifici portati avanti per raggiungere la medaglia sono stati veramente tanti, anche perché sono una donna con figli, famiglia, responsabilità, però la passione, l'amore per il mare e i valori che questo gruppo divoga, ci infonde, sono stati pervasi. Dove vi allenate normalmente? Nella sede della Lega Navale. Quindi in Mar Grande? Sì, sì, in Mar Grande. In realtà il nostro coach, il professor Boscaino, ci spreme come limoni, quindi ci dà l'opportunità di visitare tutta Taranto, vista dal mare, che è un'opportunità veramente appagante, è un'esperienza veramente bella e che rincuora dei sacrifici fatti, insomma, fino adesso.